Dal 31 luglio scorso l'oasi naturalistica Trentova-Tresino riprende vita. Alla bellezza ineguaiabile di questi luoghi abbiamo unito tante attività e sport da poter svolgere all'aria aperta. Lo dice il primo cittadino di Agropoli ad Amocoppola a margine dell'inaugurazione. Escursioni a cavallo, trekking, atletica, tiro con l'arco e altro ancora. Il centro visite con un punto ristoro sarà il motore di tutto questo. Un progetto che fa seguito all'acquisizione dell'area del 2016. Andiamo a riempire di contenuti il polmone verde della nostra città, certi che sia un ulteriore sprone al turismo. Il tutto in collaborazione con tante associazioni del territorio e collega ambiente. Dopo l'acquisizione dell'area naturalistica di Trentova finalmente comincia un progetto per far vivere quest'area a tutti. Un progetto di sport all'aria aperta che credo non abbia paragoni nel nostro territorio. Chiaro che abbiamo chiesto aiuto all'associazione del territorio, chi si occupa di trekking, chi si occupa di mountain bike, cavalli, atletica, perché anche qui saranno un punto di incontro per lo sport, per la corsa a cappestre e per quant'altro. Abbiamo chiesto una collaborazione anche di altre associazioni del territorio, una collaborazione con le cambiende. Insomma, un progetto che in qualche modo ha l'obiettivo principale di far vivere veramente l'area naturalistica di Trentova in un'oasi bellissima, con la possibilità di avere il centro viso di istruzione attrezzato con un punto di storia dove sarà il centro motore, diciamo, di tutto questo meccanismo che sta nascendo oggi. Quindi siamo felici veramente di avviare questo progetto che, come dicevo prima, sarà un centro motore per il nostro turismo, ma anche per i nostri cittadini che potranno finalmente, che fino a ora avevano guardato l'oasi di Trentova soltanto a guardarla da oggi, potranno viverla compiutamente per averne una soddisfazione maggiore. Quindi questo progetto che comincia, siamo felici di poterlo avviare oggi, ma è solo l'inizio di un percorso che sono sicuro ci dà una grande soddisfazione.